Ciao a tutti amici di Averiai, un salutone del vostro Green nella precedente review di David Villa in form. Vi avevo chiesto, ditemi chi volete che io recensisca, ho scelto un commento e qui abbiamo la review di James Rodriguez 88 International Man of the Match. Un CoC che ha veramente tutte le carte in regola per essere il campione della vostra squadra. Perché intanto, vabbè, posizione CoC rispetto alla carta base che è un esterno destro, come CoC sono gli ultimi suoi tre in form, 85, 86, 87 e la versione Team of the Season 91 di overall. Com'è questo giocatore qua? Beh intanto ho detto tutte le carte in regola perché ha tutto. Ha velocità, controllo palla, passaggi, tiro, forza fisica, skill, tutto quanto ragazzi, tutto quanto. Workrate medio medio per cui segue sì la fase offensiva che quella difensiva. Piede preferito il sinistro con tre stelle sul piede debole, dopo andremo a parlare del tiro e vedremo questa cosa qui. Quattro stelle mosse abilità. Intanto è un giocatore con grandissimo controllo palla perché ha 95 controllo palla e 96 dribbling. Per cui dribbling con anche le quattro stelle, veramente esagerato. Un 89 di agilità ragazzi, con un 70 di equilibrio che comunque non si sente molto questo valore basso. Perché veramente io non ho mai avuto problemi, forse anche grazie a questo 83 di forza fisica, a tenere il controllo del pallone, a resistere ai contrasti. Mi sono trovato veramente benissimo. Grande velocità perché questo 84 di velocità è un 84 di sprint ma un 87 di accelerazione. Quindi in gioco sembra quasi anche più veloce di questo 84 a volte. Un bel 99 nei riflessi. Parliamo allora prima dei passaggi e poi del tiro. Prima dei passaggi perché ovviamente posizione di centrocampista i passaggi sono importanti. Beh lui ha dei passaggi stupendi. Soprattutto i passaggi lunghi pennellati. Pennellati, pennellati veramente per i vostri attaccati. Con una visione di gioco di 86 punti. Con un passaggio lungo di 95 e un passaggio corto di 96, veramente lui vi farà dei lob perfetti, giusti sul piede del vostro attaccante che è partito. Anche i cross, se volete soprattutto calciarli dalla bandierina con questo 94 di cross, sono stupendi. Quindi il tiro è una cosa eccezionale con il suo piede preferito, un po' meno con il piede destro. Abbiamo 99 di effetto e questo si sente tutto ragazzi. Ma tutto, tutto, tutto. 95 dei tiri della distanza, 92 nella finalizzazione, 93 nella potenza tiro e 91 nei tiri al volo. Che se vi capiterà di fare qualche tiro vedrete che veramente il piede ce l'ha. Ma parliamo allora di questo tiro in tutta la sua interezza. Beh, dicevo prima, tre stelle sul piede debole e il destro non è così micidiale come è il suo sinistro. Da dentro area, veramente, se voi la tirate a giro, il portiere è sempre battuto. Da fuori area, il tiro non sembra potentissimo, ma veramente questo 99 di effetto vi farà fare delle parabole che andranno in porta senza troppi problemi. Soprattutto se trovate magari l'avversario a cui piace far uscire un po' il portiere, vedrete che anche da distanze siderali lancerete il pallone in porta senza veramente alcun problema. La potenza, diciamo, si sente molto da limitare dell'area. Una cosa che mi è piaciuta è la sua forza fisica che lo fa resistere i contrasti e quindi gli permette comunque di andare a calciare di potenza anche se avete il difensore che magari vi sta spingendo. Il colpo di testa non è che sia chissà che, quindi se lo usate come magari C.O.C. unico, attenzione, quando andrete a colpire di testa, ma, diciamo, è una cosa né carne né pesce. Statistiche difensive, invece, quelle sì sono basse perché abbiamo 29 marcatura, 30 scivolate e 40 contrasti, per cui non è un fenomeno nell'interdizione. Detto questo, ragazzi, rimane comunque un giocatore che questi 270-290 mila crediti li vale tutti, li vale tutti perché ricapitoliamo e ripetiamo l'ora cosa lui ha. Grandissimo controllo del pallone, dribbling, le skill, ha passaggi stupendi, veramente, sia corti che lunghi e cross, visione di gioco eccezionale. E ha un tiro che è perfetto, non si può dire, ma ci stiamo avvicinando, veramente, grandissimo effetto, ottima potenza, buona finalizzazione. I tiri dalla distanza, anche questi, spesso e volentieri, vi lasceranno molto, molto contenti. Io vi consiglio di usarlo in un modulo, magari con due C.O.C., tipo un 4-5-1, e metterlo sulla destra, così può sfruttare tutto il suo sinistro e tutto il suo effetto. Il piede debole forse è l'unica pecca di questo giocatore qua, perché col destro veramente mi sono trovato un po' in difficoltà. Non c'è niente altro da dire, mi raccomando, lasciatemi un commento e ditemi chi volete che io recensisca la prossima recensione. Come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale di EveryEye, e noi ci salutiamo, stay barba, stay qualità. Ciao belli! Ciao!